C'è una sorpresa, non era prevista in scaletta, ma ci è venuto a trovare quella che è la vincitrice delle nuove proposte del Festival di Sanremo. Ed è pronta qui con tanta, tanta, tanta sincerità! Un dia all'eternità! E ti sono rotto il femore! Io non ho aspettato la felicità, per cantare a totò, ci quanto mi piace la felicità, felicità. Ciao, me l'idealzia, ciao, me voglio bene, quanto son contenta! Maestro, che bello vedervi! Che bella orchestra che ha! Maestro, adesso, dal Festival, se lei me lo permette, è arrivata una grande ospite! Malika Ayan, Malika Pelli, chi che li fa? Silenzio per cenare, conoscersi, lasciarsi le mani, non è quello che ci spetta. Ciao, buonasera a tutti della vostra Antonella Clerici, ciao! Come va tutto a posto? Maestro, maestro, fanno male le scarpe, pure lei. Ha visto per caso se c'è Anna Moroni. Pronti, cuochi, via, Anna! Tesoro, te le sei la vede le mani di Sarugina che si attacca alla pesciamella. Tesoro, gira, tesoro! Signore e signori, Sofia Loren! Buonasera! Buonasera! Che bella chiesta, che bella gente, che bella emozione! Viva Napoli, che bello vedervi! Che bello, sono lieta di essere qua questa sera, adesso sto per partire per la Spagna, dove andrò a girare la seconda serie del Segreto. È talmente segreto che non si sa né quando si parte, né quando arrivo, né quando torno. Grazie. 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 Grazie.